Questo è il secondo video che realizzo sul come creare un server Discord per un progetto NFT. Ho deciso di portare una versione più completa e aggiornata perché l'altro è andato benissimo. E quindi in questo video vedremo come creare un server Discord ovviamente con i canali e con i ruoli, ma soprattutto con un bot per la verifica dell'utente, con un bot per la moderazione automatica, con uno per i giveaway, uno per il livellamento e poi quello più importante, il bot che permetterà agli utenti di verificare il possesso di un nostro NFT, così da farli accedere magari a dei canali esclusivi. E questo è un modo grandioso per aggiungere utilità ad un progetto NFT. Intanto mi scuso per la voce un po' avattata, ma quando ho registrato questo video ero molto raffreddato. Sulla pagina principale di Discord cliccate sul pulsante Add Server, Create My Own e qui selezionate per un club o per una community. Poi aggiungete un nome e un'immagine al vostro server e tranquilli perché è tutto modificabile anche in seguito. Quando avete deciso cliccate su Create e vi troverete davanti questa schermata con Invite i tuoi amici e manda il primo messaggio. Ma mi raccomando non invitate ancora nessuno perché davvero potreste spaventarlo. Infatti il server è ancora vuoto, ma come potete vedere in alto a sinistra c'è già una categoria Text Channels, un canale General e sotto un'altra categoria Voice Channels e un altro canale General. Praticamente si spiegano da soli. Nel primo è possibile entrare e scrivere, nel secondo è possibile entrare e parlare a voce. Possiamo considerare una categoria come un contenitore di tanti canali, mentre il canale è vero e proprio cuore pulsante del server. Perché nei canali è possibile scrivere e scambiare opinioni e quindi ogni canale deve essere rinominato con la funzione che svolge. Ad esempio in un canale General si parlerà di un po' di tutto, mentre in un canale Scam Reports si parlerà solamente di scam. Per creare un canale andate qui nella parte vuota, tasto destro e Create Channel. Qui selezionate il tipo di canale, se testuale o vocale, e poi dategli un nome. In questo caso il canale Welcome. I canali così sono davvero brutti, per questo possiamo aggiungere delle emoji. Su Mac cliccate Ctrl, Command e Space, mentre su Windows il tasto Windows più il punto. Così che anche a voi appaiano tutte queste emoji. Ed ecco che il canale così è molto più carino. Quando avete finito cliccate su Create Channel. Un altro canale molto importante è quello delle regole. Mettete Canale Testuale, dategli il nome e poi create il canale. Un altro canale molto importante che mi viene in mente è quello degli annunci, dove appunto annunciare tutte le novità alla community. Ovviamente i canali non devono essere lasciati qui fuori, ma vanno trascinati all'interno di una categoria. E sempre trascinandoli è possibile modificare l'ordine nel quale appaiono all'interno della categoria stessa. Per modificare una categoria fate tasto destro su di essa, Edit Category e qui potete cambiare il nome. In questo caso magari Information. Mi raccomando cliccate sempre Save Changes e vedete come effettivamente il nome della categoria è cambiato. Invece per creare una categoria dovete fare tasto destro sempre nella parte vuota e cliccare Create Category. Qui dategli un nome come ad esempio Community e cliccate Create Category. Prendiamo ora il canale General e portiamolo all'interno di Community. E per spostare una categoria è come per i canali. La prendiamo e la trasciniamo dove vogliamo. Ed ecco che io ho creato qualche altro canale e quindi adesso attiviamo le funzionalità della Community. Per farlo clicchiamo sul nome del nostro server, Server Settings e scendiamo fino a Enable Community. Qui clicchiamo su Get Started e per minimizzare lo spam nel nostro server mettiamo la mail verificata e poi attiviamo anche la scansione dei media per evitare che vengano mandati contenuti inappropriati. Cliccate su Next e qui dobbiamo selezionare in quale canale vogliamo che appaiano le regole del nostro server. Clicchiamo su Create One For Me e selezioniamo il canale Rules che abbiamo appena creato. Mentre quello sotto lo lasciamo su Create One For Me perché verrà creato solamente per i moderatori. Clicchiamo su Next e qui dobbiamo attivare le notifiche di default solamente per le menzioni e quello sotto non c'è nemmeno bisogno di spiegarvelo. Dobbiamo togliere i permessi di amministratore al ruolo di Everyone che è il ruolo che viene assegnato a chiunque entra nel server. Clicchiamo su Agree e finiamo il setup. Adesso abbiamo queste altre funzionalità. Clicchiamo su Welcome Screen, Setup Welcome Screen e qui dobbiamo selezionare i canali che vogliamo che siano messi in primo piano quando un utente entra nel server. Magari il canale Rules e possiamo specificare cosa contiene questo canale. Poi cliccare su Save e aggiungerne volendo altri 4 fino a un massimo di 5. Io adesso ne ho aggiunti altri 3 perché altrimenti in un passaggio successivo Discord si bugga e non mi fa andare avanti. Poi salite qui sopra, cliccate su Enable e questo messaggio vi dirà che i membri saranno mostrati questi 3 canali quando entreranno nel server. Passiamo ora a settare il Membership Screening. Clicchiamo Setup Membership Screening, scendiamo qui sotto e Get Started. Adesso dobbiamo selezionare tutte le regole che vogliamo che siano seguite dagli utenti nel nostro server come ad esempio queste di default ma volendo possiamo aggiungerne anche una personalizzata come ad esempio Seguimi se stai trovando questo video interessante. Clicchiamo su Save e prima di andare avanti dobbiamo salire qui sopra e dare una descrizione al nostro server come ad esempio la community di appassionati di Web3 più grande d'Italia. Quando avete finito cliccate su Enable. E adesso questa sarà la schermata che apparirà quando qualcuno entrerà nel server e dovrà accettare i nostri termini per entrare. Passiamo ora a una delle cose più importanti di ogni server Discord, quella che spesso le persone non capiscono. I ruoli. Per creare o modificare un ruolo clicchiamo sul nome del server, Server Settings & Roles. Clicchiamo Create Role e qui possiamo già iniziare a creare tutti i ruoli che vogliamo. Quello per gli amministratori, per i moderatori, per i bot o anche un ruolo molto particolare come quello degli NFT holders che darà il permesso a chi possiede un nostro NFT di accedere a dei canali privati esclusivi. Intanto qui sotto troviamo il ruolo di Everyone, un ruolo di default che viene assegnato a chiunque entra nel nostro server. Per azzerare i permessi di questo ruolo basterà cliccare su Clear Permissions e Save Changes così che questo ruolo non abbia sostanzialmente il potere di fare niente. Torniamo ora al ruolo che stavamo creando. Possiamo andare in Display e dargli un nome, come ad esempio Admin, poi possiamo dargli un colore e scendendo sotto possiamo decidere se far apparire chi ha questo ruolo in modo separato rispetto agli altri. Sostanzialmente nella schermata di destra, dove ci sono tutti i membri online, chi ha il ruolo di amministratore sarà fatto vedere in modo diverso. Andando poi in Permessi, a noi non interessa di nessuno di questi perché scendendo in basso gli daremo il permesso di amministratore. E procediamo con la creazione di altri ruoli, come ad esempio il ruolo di moderatore. Scegliamo sempre un colore e vogliamo che anche questo ruolo sia fatto apparire in modo diverso rispetto agli altri membri online. Andiamo in Permessi e a questo ruolo daremo il permesso di vedere il canale, magari scendendo sotto di creare invito, di cambiare nickname, che comunque sono abbastanza futili, ma poi dobbiamo dargli il permesso di buttare fuori i membri, di bannarli e di dargli un timeout. Così che i nostri moderatori abbiano la possibilità di gestire quello che sta succedendo nel nostro server. Se qualcuno si comporta in modo errato, loro potranno bannarlo, cacciarlo o magari dargli un timeout di un'ora, due ore o così via. Volendo possiamo aggiungere anche tutti questi altri permessi, ma insomma scegliete voi quale dare, l'importante è che noi gli diate il permesso di amministratore. Clicchiamo su Save Changes e adesso potete creare tutti i ruoli che volete. Io però i prossimi li creerò solamente dopo aver invitato i bot nel server per farvi vedere la procedura passo dopo passo. Con il link che vi lascio qui sotto in descrizione, recatevi sul sito del bot Misix e cliccate Aggiungi a Discord. Qui dovete scegliere su quale server inviarlo, cliccate su Continua e dovrete dargli tutti questi permessi che vi chiede. Tranquilli, so che all'inizio potrete essere scettici perché gli state dando sostanzialmente qualsiasi tipo di permesso, ma questo è un bot affidabile utilizzato da tantissimi server e ha bisogno di questi permessi per poter sostanzialmente gestire il server. Scendete fino alla fine e cliccate su Autorizza. Adesso dovrete risolvere questo captcha verificando di essere umani e quando avrete finito verrete reindirizzati a questa pagina dove potete già iniziare a configurare il bot. Ma noi vedremo come con la versione gratis sarà possibile avere la verifica degli utenti e la moderazione automatica. Torniamo nel nostro Discord e creiamo un nuovo ruolo. Lo chiamiamo Verificato, gli diamo il colore verde e in Permessi gli diamo il permesso di visualizzare i canali, di creare inviti, di cambiare nickname, di mandare messaggi, di aggiungere reazioni. E questo è molto importante perché proprio aggiungendo reazioni a un bot è possibile ricevere nuovi ruoli. Poi aggiungiamo il permesso di menzionare everyone e gli altri ruoli e poi il read message history. Questo permesso è molto importante perché senza di esso non si potranno vedere i messaggi inviati nel canale prima dell'ingresso nel server. Quando avete finito cliccate su Save Changes e poi torniamo sul bot MissX. Andiamo su Ruole di reazione e attiviamo il plugin. Qui clicchiamo su New Reaction Role, scegliamo un canale nel quale far apparire il messaggio di verifica che però noi non abbiamo ancora creato. Quindi su Discord, in Informations, creiamo un nuovo canale che chiameremo Verifica. Torniamo sul browser, selezioniamo il canale Verifica, qui passiamo da Embed Message a Text Message e rimpiazziamo il messaggio con quello che vogliamo noi. Come ad esempio reagisce al messaggio per avere accesso al resto del server. Sotto clicchiamo su Aggiungi reazione e io vado sul cuore e scendo fino a trovare i green check e poi clicco su questo più a fianco al green check e aggiungo il ruolo verificato. Quando ho finito torno in alto e clicco Salva e chiudi. E potete vedere come io non abbia nessun ruolo ma andando nel canale di verifica e reagendo al messaggio di MissX mi appaia il ruolo verificato nell'utente. Adesso vediamo come modificare i permessi delle categorie. Andiamo in categoria Permissions e qui vediamo già che il ruolo di Everyone non ha sostanzialmente il permesso di fare nulla, come avevamo deciso noi all'inizio. Però dobbiamo aggiungere il ruolo verificato e dargli la possibilità di vedere i canali, di creare invito, di mandare messaggi e vedete voi tutti gli altri permessi che volete dargli. L'importante è che tutti questi che ho selezionato io li selezioniate anche voi. L'altro permesso che non è facoltativo è questo Read Message History che come dicevo prima in caso non fosse attivato non permetterà di vedere i messaggi già mandati nel canale prima del suo ingresso. E l'unica cosa che dovrete fare adesso è verificare che i permessi del singolo canale siano sincronizzati con quelli della community. Infatti vedete come già il ruolo verificato abbia tutti i permessi che io avevo già impostato nella community senza doverli settare manualmente per ogni canale. Facciamo lo stesso per la categoria Informations. Andiamo in Edit Category, Permissions e aggiungiamo anche questa volta il ruolo verificato. Ma in questo caso gli diamo solamente il permesso di visualizzare il canale, di aggiungere reazioni e quello di leggere lo storico dei messaggi. Questo perché sono canali solamente da visualizzare senza dover però scrivere al loro interno. Come il canale Rules, il canale Announcements e il canale Welcome dove potranno scrivere solamente i bot. Verificate anche in questo caso che tutti i permessi siano sincronizzati con la categoria ad eccezione del canale di verifica dove dovrete modificare i permessi in modo che il canale Everyone possa vedere il canale, aggiungere reazioni e leggere lo storico dei messaggi. Così che possa visualizzare il canale di verifica dove appunto reagire al messaggio di MissX ed ottenere il ruolo verificato per accedere al resto del server. Adesso torniamo alla dashboard di MissX, andiamo su moderazione ed attiviamo questo plugin. Adesso qui possiamo attivare l'automoderazione mettendo elimina il messaggio ammonisci l'utente o elimina il messaggio ed ammonisci l'utente in caso ci siano delle condizioni particolari. Si potranno utilizzare tutte queste funzioni ad eccezione di quelle con la coroncina che richiedono il premium. Premium che comunque costa 4,17€ al mese per il primo anno oppure 89,90€ per il piano a vita. Non vi faccio vedere come settare tutte queste impostazioni perché sono molto personali, ma qui sotto possiamo mettere che l'automoderatore non influenza gli altri bot perché magari vanno in conflitto e volendo aggiungere delle azioni automatizzate come ad esempio muta dopo 3 infrazioni negli ultimi 30 minuti. Ovviamente si può scegliere anche un altro tempo e volendo si può anche scegliere un'altra azione. Come ad esempio banna, banna temporaneamente, muta, muta temporaneamente o caccia. Quando avete finito ricordate di salvare. Se volete vedere tutti questi bot con magari lo stesso colore, andate in server settings, ruoli, creiamo un nuovo ruolo, gli diamo magari il colore giallo, lo chiamiamo letteralmente bot, decidiamo di farlo vedere in modo diverso rispetto agli altri membri online e in permissions scendiamo sotto e gli diamo il permesso di amministratore. Clicco su save changes, poi torno nella schermata principale, clicco il bot miss x e gli aggiungo il ruolo di bot. Ed ecco che adesso tutti i bot saranno mostrati in modo diverso rispetto agli altri membri online. Per effettuare dei giveaway all'interno del nostro server ci servirà i giveaway bot. Clicchiamo su add to discord, selezioniamo il server in cui mandarlo, clicchiamo su continua e gli diamo tutti questi permessi. Adesso verifichiamo sempre di non essere un robot e tornando sul nostro server vediamo il giveaway bot. Tasto destro roles e gli diamo il ruolo di bot. Adesso creiamo un nuovo canale privato che chiameremo magari giveaway e daremo accesso a questo canale solamente ai moderatori, l'admin è superfluo perché ha accesso a prescindere, il giveaway bot e volendo anche al miss x. E in questo canale adesso potremmo digitare il comando punto esclamativo g create. Adesso ci chiede in quale server far partire il giveaway, noi metteremo magari general. Adesso ci chiede la durata in secondi di questo giveaway, io metterò 10 per fini tempistici del video. Ci chiede quanti vincitori ci saranno tra 1 e 20 perché questa è la versione gratuita. Poi ci chiede quale sarà il premio del giveaway, in questo caso mettiamo un NFT. E adesso ci dice che tra 10 secondi il giveaway finirà. Quindi vado nel canale general, clicco la reazione ed ecco che dice congratulations Tommaso hai vinto un NFT. Ovviamente perché nel server ci sono solo io, altrimenti avrebbe scelto tra tutti quelli che avevano aggiunto una reazione a quel messaggio. Per aggiungere invece un bot di livellamento andate sempre qui sotto in descrizione e andate sul sito di Arcane Bot. Cliccate su add to discord, mettete in che server volete mandarlo, gli date tutti questi permessi e verificate anche qui di essere umani. Questa parte possiamo anche schipparla ed ecco il bot Arcane. Tasto destro, roles e gli aggiungiamo il ruolo di bot. Adesso possiamo tornare sul sito di Arcane, fare login, scegliere con quale server effettuare l'accesso. E qui vediamo tantissime funzionalità, ma noi ci soffermeremo sul leveling. Tutte queste sono a pagamento, quindi noi scendiamo sotto e ci soffermiamo su role rewards. Creiamo un ruolo da aggiungere. Torniamo sul discord, server, server settings, roles e aggiungiamo il ruolo di whitelist, che magari poteva essere assegnato anche come premio per il giveaway. Clicco su save changes, torno sul sito di Arcane, aggiorno la pagina con F5 o cliccando questo pulsante e metto magari che a raggiungimento del livello 20 ci sarà dato il ruolo di whitelist. Clicco su add reward ed ecco che il whitelist ci sarà dato a livello 20. Torno su discord e volendo posso far partire il comando punto esclamativo leaderboard o slash leaderboard ed ecco che ci apparirà la leaderboard di tutto il server. Ovviamente adesso ci sono solo io perché nel server ci sono solo io. Ed ecco infine il bot che permetterà agli utenti di verificare il possesso di un NFT. Mi raccomando aprite questo sito solamente dal link in descrizione perché su internet esistono moltissime versioni fasulle che vogliono solamente truffarvi. Cliccate su start building, poi su discord bot walkthrough e scendete sotto fino a cliccare sul messaggio click here. Anche qui selezionate il server in cui mandarlo, autorizzate e verificate anche qui di non essere un robot. Ed ecco che il bot è entrato nel nostro server. Anche qui tasto destro roles gli aggiungiamo il ruolo di bot e vediamo come sono stati creati i due canali con la blend config e con la blend join. Il con la blend config è già di default un canale che è possibile vedere solamente con il permesso di amministratore. La cosa bella è che se qualcuno compra un nostro NFT, questo bot gli darà un ruolo che gli permetterà di accedere ad un canale privato ed esclusivo. Ma se poi questa persona dovesse vendere l'NFT, il bot gli toglierà automaticamente questo ruolo. Ed ecco perché a questo bot abbiamo dovuto dare tutti quei permessi all'inizio. Scendiamo qui sotto in community, create channel e creiamo un canale privato chiamandolo NFT holders e permettendo l'accesso solamente al ruolo di moderatore giveaway bot con la blend admin e ai membri con la blend misx giveaway bot e volendo anche arcane, create channel. Ed ecco che qui c'è il nostro canale. Andiamo qui sopra server settings roles e creiamo un ruolo del possessore di un NFT. Lo chiamiamo magari NFT holder, gli diamo un colore e io vi sconsiglio di mettere questo display role members separately perché magari qualcuno vede un possessore di un NFT online e magari gli rompe le scatole per farglielo vendere o comunque gli spamma messaggi. Adesso cliccate su save changes e dovete ricordarvi di aggiungere il permesso a questo ruolo di accedere al canale. Quindi cliccate sul canale add members o roles e aggiungiamo NFT holder. Poi clicchiamo su done e adesso solamente chi è in possesso di un NFT potrà accedere a quel canale. Ora nel canale colla blend config dobbiamo settare di quale NFT verificare il possesso. Andiamo su un NFT della nostra collezione, andiamo in details e in contract address. Qui copiamo l'indirizzo del contratto e su colla blend config digitiamo il comando punto esclamativo roles. Qui clicchiamo sul pollicione per role configuration ed ecco tutte le chain degli NFT che possiamo scegliere. Il mio è su rinkeby quindi io cliccherò il pulsante 3 per rinkeby. Torno di nuovo sulla pagina dell'NFT e vedo che tipo di NFT è quindi RC721 e qui clicco l'emoticon corrispondente all'ERC721. E poi qui dovrò copiare l'indirizzo, mettere il numero di token minimo da possedere quindi metto 1, poi il numero massimo di token e metto meno 1 per non avere i massimi e poi il ruolo da assegnare. In questo caso chiocciola NFT holder. Poi volendo c'è anche l'ID dell'NFT che io però non metterò perché voglio verificare il possesso di un qualsiasi NFT della mia collezione. Una volta cliccato invio ecco qui role configuration, NFT holder per il network rinkeby e il tipo di NFT e il suo contract address. Per verificare il possesso di un NFT andate in colla blend join e mi raccomando non modificate il nome di nessuno di questi canali altrimenti il processo non funzionerà. E qui clicchiamo su let's go. Adesso clicchiamo su connect wallet e fidiamoci del link che ci appare. Qui ci connettiamo con metamask e ci dice che in due minuti verificherà se abbiamo o meno un NFT della configurazione scelta da noi. Ma in realtà a me ci ha messo molto meno e infatti ecco il ruolo NFT holder. Adesso io posso accedere comunque perché sono l'admin ma chiunque avrà il ruolo NFT holder potrà scrivere in questo canale. Ho appena invitato il mio secondo account in questo server ed ecco che per prima cosa gli appare un messaggio. Devi ancora completare alcuni step prima di poter parlare. Clicco sulla freccetta ed ecco che mi appaiono le regole che avevo scelto per il mio server. Le approvo e vado avanti. Nel canale di verifica vedete io non ho nessun ruolo ma se nel canale di verifica reagisco al messaggio ecco che mi appaiono tutti gli altri canali. Ma vedete che senza il ruolo di NFT holder quel canale esclusivo non mi apparirà ed io non potrò entrarci. Questo video termina qui lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e alla prossima ciao.